Ciao, sono Barbara, una trainer della Mixology Academy. È un'accademia in cui proponiamo corsi di bartender, caffetteria, intaglio frutta, molecolare e facciamo anche degustazioni. Oggi andremo a vedere un Japanese iced tea. La ricetta del Japanese iced tea è mezz'oncia di vodka, mezz'oncia di rum, mezz'oncia di gin, mezz'oncia di midori e due onci e mezzo di sweet and sour, con un top alla fine di lemon soda. Per preparare il Japanese iced tea, prendiamo un rock juice e lo riempiamo di ghiaccio e iniziamo a versare i prodotti. misceliamo e aggiungiamo la lemon soda. due cannucce e il cocktail è pronto. Il Japanese iced tea è una variante del Long Island, prende il nome Japanese proprio perché è fatto con un liquore giapponese, un liquore al melone verde. e se volete imparare a fare il Japanese iced tea potete venire a trovarci alla Mixology Academy. Ciao!